Un unveiling mozzafiato, l'ultimo progetto di Tender Capital ha lasciato il pubblico della mostra del cinema di Venezia senza parole. È stato presentato al teatrino di Palazzo Grassi Jugen, l'ultimo lavoro che combina arte e tecnologia dell'artista e regista Martha Feins con la partecipazione straordinaria di Salma Hayek. Un'operazione sinergica tra Martha Feins, Salma Hayek e Magnus Fein, compositore e autore delle musiche. Il progetto è stato prodotto da Tender Capital, società creata da Moreno Zani nella salda convinzione che la combinazione di talento, innovazione e integrità possono fare la differenza rispetto al mondo della finanza tradizionale. Diciamo che è stato un lungo viaggio, un viaggio iniziato circa un anno e mezzo fa quando io incontrai a Londra Martha Feins e vidi per la prima volta la sua precedente opera Nativity, un'opera che mi aveva sinceramente catturato, particolare, mistica. Quando lei mi parlò del nuovo progetto a cui stava pensando all'epoca, neanche ci stava lavorando, non esitai molto nel dirle che mi avrebbe fatto veramente piacere condividere questo viaggio con lei. Siamo partiti da lì e poi abbiamo costruito sempre nello spirito di Tender to Art, lasciando la massima libertà espressiva all'artista, abbiamo costruito questo progetto a cui poi si è aggiunta Salma Hayek e Quino, gli abbiamo presentato la nostra idea e lei rimasta entusiasta, l'ha condivisa ed ha percorso con noi questo lungo cammino che ci ha portato a Venezia durante il Festival del Cinema. Yugen è una parola giapponese che dà l'idea della grande consapevolezza dell'universo e contemporaneamente del suo mistero, che è quello che poi nell'opera si vede, si trasmette. Tender Capital, società specializzata nell'asset management, è da anni impegnata in Tender to Art, un incubatore di progetti artistici che spaziano dall'arte visiva alla letteratura fino al cinema. Tender to Art è un incubatore che abbiamo fatto partire nel 2012 nell'idea di trasmettere il DNA di Tender Capital attraverso l'arte, l'arte nelle sue più svariate forme, dall'arte pittorica alla fotografia al cinema. Dal 2012 ad oggi abbiamo fatto diversi progetti che ci hanno portato da presentare nuovi, giovani, talenti a lavorare con grandi scrittori come Romagnoli, La Gamberale, ad attrici come Valeria Golino e sino all'ultimo con il progetto realizzato con Martha Feins e Salma Eppino. Dopo l'anvil in veneziano, ora per Jürgen inizia un'altra avventura, con presentazioni in tutto il mondo. Siamo all'inizio della vita di Jürgen, nel senso che Jürgen è stato presentato a Venezia, è rimasto poi due giorni in visione libera a chiunque volesse vederlo nel teatrino di Palazzo Grassi e poi adesso inizierà il suo lungo cammino. Inizieremo il 5 di ottobre alla Serpentine Gallery, a Londra, dove ci sarà l'unveiling londinese e poi con tutta probabilità l'opera verrà presentata a New York e poi a Los Angeles tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS